Dal mare ai colli passando per il centro storico di Carrara, proprio là dove Michelangelo ha presi a scolpire il marmo, divenuto famoso in tutto il mondo, il marmo di Carrara. Si è tenuto nella cittadina toscana il festival White Carrara Downtown, dentro lo spettacolo del marmo. Una settimana di eventi dedicati alla famosa pietra e all'arte della scultura. Dobbiamo ritornare a lavorare il marmo come una volta si faceva. La città un tempo viveva proprio di questi rumori, erano rumori continui e questa è la parte migliore veramente dell'estrazione del marmo. White Carrara Downtown nasce da un'idea ben precisa, che è quella che il marmo è molto di più di un blocco e proprio qui su Carrara abbiamo le maestranze, abbiamo l'arte, abbiamo la cultura e dobbiamo trasmetterlo al mondo intero. Dalle lezioni di scultura all'aria aperta ai percorsi gastronomici, Carrara è diventata per una settimana un museo a cielo aperto. Chiude sabato sera Goran Bregovic con un concerto alla Cava Lazzareschi. Chiude sabato sera Baranetics